Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo della donna ritrovata priva di vita ieri sera in una zona di montagna a Domicella. La 75enne di Forino, ieri pomeriggio, in compagnia del figlio, ha raggiunto località Arcuccello con l'intento di raccogliere asparagi selvatici. Mamma e figlio si sarebbero incamminati lungo la montagna per poi separarsi. Ad un certo punto il 41enne si è reso conto di aver perso le tracce della donna e ha cominciato a cercarla in vano per poi chiedere aiuto, allertando i carabinieri. Sul posto si sono portati i militari della compagnia di Baiano, i volontari della protezione civile e di forestali di Lauro, ma sul posto è stato necessario anche l'arrivo dell'elicottero dei vigili del fuoco di Salerno. Per il ritrovamento della donna il sorvolamento dell'aria è stato indispensabile, ma purtroppo inutile, quando i vigili del fuoco sono riusciti ad individuare la 75enne, la signora era già priva di vita. I soccorritori infatti non hanno potuto far altro che recuperare la salma e consegnarla alle autorità giudiziarie. Sul corpo dell'anziana è stato effettuato un primo esame esterno da parte del medico legale che domani effettuerà l'autopsia. Bisogna stabilire le cause della morte dell'anziana donna per capire come è finita nel burrone, se ha perso l'equilibrio oppure ha avvertito un malore. La tragedia, oltre a gettare nello sconforto i familiari della donna, ha colpito l'intera comunità di Furino, dove la 75enne era molto conosciuta, come del resto il figlio, una persona molto attiva anche nella vita sociale del paese.